Aveva una causa pendente con il Comune quando si candidò a consigliere comunale. Il caso Rosa Altieri, l'incompatibilità del consigliere dell'Udc, torna in aula alla vigilia della sentenza del Tribunale di Salerno. Chiedo di sospendere subito la discussione, ha dichiarato Damiano Cardiello di Forza Italia, per non creare indebite ingerenze sul potere giudiziario chiamato a decidere sulla controversia tra Altieri e Pellegrino. Se l'istanza di Pellegrino verrà accolta, Altieri dovrà lasciare il seggio. Il giudizio pendente verrà definito il 26 settembre a Salerno. C'è un vizio formale su questa discussione, ha spiegato Antonio Conte del Movimento Democratico e Progressista. La vostra scelta politica crea un precedente. Siate cauti, rifate il percorso, l'ordine del giorno non è stato condiviso. Per la maggioranza è intervenuto Carmine Busillo. La vicenda non è amministrativa, rivendichiamo la primazia della politica. La scelta è della conferenza dei capigruppo, conclude Busillo. Non siamo un tribunale, facciamo politica. Grazie.